Ecco il Neir, agosto 2012, agosto del 2579, vento della Madonna, partito da Neir, ecco qua la cima, in un'ora e quaranta sono arrivato su questa cima, passando il collo della Sonei. Allora, lì c'è la vallone, il collo della Valogna Grande, la Civo Trevespi, lì c'è Berri, lì c'è il Moneri, lì c'è il Lancia, lì c'è tutta la catena del Monte Rosa, lì c'è il vallone di lì, adesso andrò giù, ce l'erò per il collo di Niel e andrò al collo della Valogna Grande. Devo lasciare questo a posto perché c'è un vento vicinale, ecco qui il vallone di lì, adesso vedo se riesco. Assoluto, 16 agosto 2012, era pubblico lo zanienio, il 2579, adesso andrò il collo della Sonei, partito da Neir, un'ora e fuori, un'ora. Assoluto, 26 agosto 2012, era pubblico lo zanienio, il 2579, adesso il collo della Sonei, partito da Neir, un'ora e fuori, un'ora e fuori. Continua la gita, sono ritornato al collo della Sonei, 2395, ho dovuto lasciare quella cima, la punta della Sonei, velocemente, con un cerno delle graffiche di venti omicidiali, ecco la punta sullo sfondo, qui siamo al colle, adesso scenderò per il vallone di lì e risalirò il collo di Niel per la Valogna Grande. A dopo, continuo la trasmissione, qui il collo della Valogna Grande, allora, altezza 2354, ecco qui lo metto del colle, qui c'è tutto il vallone che porta a te, là c'è il colle della Sonei, la punta della Sonei, io sono pieno poi, tramite un colle che ho, si prendono una traccia di sentiero, sono buccato alla bocchetta di Niel, e lì si scendo qua, dalla cima a Treveschi, sono arrivato a questo colle. Allora, là vediamo il Monnery, il campo di Sernais, ce ne vede solo una, la Bologna Grande, tutta la cresta, lì c'è tutto il cerido freddo, e lì c'è tutta la catena con il Tovo, il Camino, il Mars, il Monte Cresto, ecco lì. Sotto c'è il rifugio Rivetti, ecco, vedete un po', ecco il rifugio Rivetti, la giornata comincia a farsi freschina, è molto freddo, mi riparo qui dietro, e niente. Mando i saluti al colle della Mologna Grande, 26 agosto 2012, dopo aver eseguito un giro d'anello e aver toccato la punta di Lasonei. Un'ora di l'erci e alla prossima. Continua la trasmissione, qui siamo al rifugio Rivetti, 2200 metri. Dopo aver tralasciato la cresta dei gemelli, perché è troppo ventosa, passo da questo bivacco, bivacco Alfredo Rivetti, scenderò giù un po', poi farò il colle della Mologna, piccola, per ritornare a Nel, ecco qua il rifugio, e là in fondo il colle della Mologna, eccolo là. Ecco tutte le catene delle Alpe e Bielese. Continua la trasmissione, siamo al colle della piccola Mologna, 2205, dopo aver transitato dal rifugio Rivetti, concludo la gita trovando due amici. Ma questo è un attore questo, è un attore. E con questo saluto e arrivederci alla prossima. Bravo!